Buongiorno, è la settima domenica del tempo ordinario e il Vangelo di Luca al capitolo 6, i versetti dal 27 e 38, ci dona una rivelazione tanto esigente quanto meravigliosa. Dobbiamo partire dall'annuncio degli ultimi versetti. Il Padre nostro è misericordioso e noi siamo figli dell'Altissimo, che è benevolo verso gli ingrati e i malvagi. Insomma, Dio ama tutti, ama con misericordia. Dio ama anche coloro che gli sono ingrati. Dio ama anche i malvagi, perché desidera che si convertano e che incontrino in Lui la via della felicità. Dio quindi ama anche me, ama tutti noi e ci ama anche nel momento in cui noi gli siamo ingrati. Noi scegliamo le vie sbagliate, a volte anche le vie della cattiveria e del peccato. Questa è la prima grande buona notizia, è il cuore di questo Vangelo, perché da qui sgorga l'annuncio che ci coinvolge in maniera travolgente. Possiamo essere come Lui. Siate misericordiosi, ci dice Gesù. Amate i vostri nemici. Due comandamenti che sono in realtà due doni. Gesù, figlio del Padre, ci rende capaci di amare come il Padre. Ci abilita a questo. Ci dice in qualche modo che noi siamo come Lui, perché siamo Suoi figli. Ed è proprio questo il gusto prezioso di un Vangelo che non invita a sforzi sovrumani, ma rende umanissimo il nostro sforzarsi ad amare. L'amore che il Signore ha messo nel nostro cuore non si accontenta del do out des. Quello che ti do tu mi dai in cambio. Non è un dare per avere un ritorno. Non è semplicemente un ottenere il minimo necessario legato alla buona educazione. Va oltre, tra bocca. Amare i nemici significa scoprire la creatività con cui l'amore si manifesta. A chi ti percuote sulla guancia offri anche l'altra, ci dice Gesù. A chi ti strappa il mantello non rifiutare neanche la tunica. Il che non vuol dire essere remissivi, passivi o addirittura sciocchi, ma essere invece capaci di sorprendere chi ci si pone davanti come avversario, magari volendoci anche male. Sorprendere con la bellezza dell'amore. Essere fantasiosi nella capacità di trovare vie per arrivare all'altro in modo nuovo. Dopo magari aver provato tanti percorsi, dopo aver fatto tanti tentativi, c'è sempre un'opportunità di percorrere un'altra strada. Tutto questo perché da figli amati vogliamo essere parte di una famiglia con fratelli e sorelle in misura smisurata, traboccante. È questa la misura che ci viene donata. La misura buona, pigiata, colma e traboccante è il dono di fratelli e sorelle che scoprendosi amati da noi e attraverso di noi da Dio scelgono anche loro di entrare nella stupenda avventura dell'amore. Com'è bella questa famiglia e com'è bello essere anche noi protagonisti di questa via che fa del mondo un luogo dove abitare in maniera controcorrente a quello che normalmente ci viene proposto. Siamo fatti per amare, amare come Dio, perché da Dio siamo amati in maniera smisurata. Buona domenica.